ciao a tutti oggi prepareremo la torta morbida con marmellata il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono confettura o marmellata a piacere farina di tipo doppio zero fecola di patate zucchero yogurt olio di semi di girasole uova lievito per dolci vanigliato vanillina sale e pasta di limone o la scorsa grattugiata del limone diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le uova ed azionare il bimbi con il cestello al posto del misurino per 6 minuti 37 gradi velocità 4 aggiungere lo yogurt l'olio la farina la fecola la pasta di limone il sale la vanillina e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità a quattro trasferire in una teglia rivestita con carta da forno da 30 per 30 centimetri abbiamo messo la confettura in una sacca a poscia adesso formeremo delle strisce orizzontali e verticali cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 35 40 minuti fare sempre la prova a stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia decorare con confettura o marmellata a piacere e spolverizzare con zucchero a velo e servire torta morbida con marmellata grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti